ciao a tutti ragazzi bentornati qui su relax con oblivion un gioco incredibile sul quale non so bene come comportarmi visto e considerato che sto giocando elden ring e c'ho i comandi sminchiati in culo ma ma facciamo finta di nulla andiamo in prima persona io non mi ricordo niente saranno due settimane che non tocco oblivion una gran scrofa di tua madre ma io non capisco aspettate ragazzi c'è qualcosa che non va proprio ma io quando cazzo l'avevo presa sta roba mi ricordo una sega e vedo tutto strano vedo tutto contrastatissimo era così anche prima io non lo so ad ogni modo ok qui ho un incantesimo ok sciabola d'acciaio ma non la volevo lasciare come cazzo si ok ho imbracciato l'incanto ragazzi non mi ricordo una sega ho rimosso tutto qualsiasi cosa aspettate qua devo devo rientrare un attimino in non so perché sto in oh no raga non mi ricordo una sega come si fa non puoi me affinché non avrei completato l'azione in corso ok scusatemi scusatemi per chi sta seguendo questa serie sarà veramente strano vedermi così in difficoltà ok quindi questo incantesimo guarisci lieve ferite fiammata debole sfera di fuoco andiamo di fiammata perfetto ok mi sto mi sto rimettendo in carreggiata quantomeno come si correva non posso attaccare a cavallo immagino ok che disastro che disastro apriamo il nostro quest log in un modo o nell'altro scopriremo devo accettare una missione di Vicente Valtieri dove la trovo la missione di Vicente Valtieri lì quindi credo che sia il caso di ok abbiamo appena comprato il cavallo non so gestirlo non so chiamarlo non so nulla del nostro cavallo non so come si possa richiamare ah ok in una scuderia fuori dalla porta della città perfetto quindi la IE che provo a correre con ok si salta con la Y ma questa è la è qua dentro che devo accettare la missione giusto? ok devo rientrare qui non mi ricordo un cazzo signori ciao a te perfetto eccoci qui siamo nella stanza giusta ma qui non posso ok ok Vicente Valtieri dove cazzo? se n'è andato se n'è andato non è passato davanti e se n'è andato fermo! devi inscenare un incidente uccidi il bersaglio nel modo specificato e riceverai un bonus considerevole accetti questo contratto? si bravo l'obiettivo è un elfo dei boschi di nome Baenlin lo troverai a casa sua a Bruma entra di nascosto e cerca di evitare il suo servitore al secondo piano c'è una porta segreta che porta in un piccolo spazio all'interno ci sono gli attacchi di una testa montata una notte sciogli quegli attacchi tra le 8 e le 11 ah ok porca troia è complicato continuerò a sbagliarmi con i tasti tranquilli ok città di Bruma trovare la casa di Baenlin ed entrare quindi dirigiamoci per l'appunto a Bruma Bruma che sta in culonia sta Bruma è lontana Bruma scusatemi ragazzi c'ho veramente veramente sono viziato da Elden Ring fortissimo perché pure lì c'è la mappa ma si muove in un altro modo qua è una tragedia la mappa di sto gioco Bruma ma eccoci qui non posso viaggiare velocemente da qui voi dovete morire tutti siete dei cacacazzi alloggi della confraternita oscura no? sala addestramento no? questi pure su alloggi da dove cazzo si esce? sto posto fottuto da lì I suppose ok usciamo da qui e poi viaggiamo quindi si va a Bruma eccoci qua entriamo da questa porta che mi sembra la più vicina al nostro obiettivo come si va a Bruma? 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 perfetto allora devo trovare la casa di questo tizio qui Non credo sia difficilissimo La cosa complicata sarà svitare i ganci di questa testa appesa sopra di lui Per simulare questo tragico incidente Ok Sono entrato nella casa di Benlin Se riesco ad arrivare all'intercapedine del secondo piano E a staccare i fissaggi del trofeo Tra le 20 e le 23 Cadrà addosso a Benlin mentre riposa sulla sua sedia Se Benlin muore in qualunque altro modo O se Grom viene ucciso Perderò il mio bonus Il maestro non piace i visitatori Lascia questa casa, ora Se sei ancora qui in 20 secondi Sì Ok, con lui non ci possiamo parlare Ci ha cacciati E va bene, e va bene Che ore sono? Eh no, ma non ci siamo Già non ci siamo Tra le 8 e le 23 Oh Aspettiamo un po' Io aspetterei qua dietro ancora qualche ora Ok Facciamo 11 ore Ho poco tempo per fare questa cosa Nell'intercapedine del secondo piano Ok, è sera 7 e 29 Ok Qua dobbiamo essere molto cauti Non possiamo far cagate Sì Ormai sono uno scassinatore di altissimo livello Carne di cinghiale La carne di cinghiale Se permettete me la frego Un estimatore Boccale marrone C'è un cazzo in casa questo Ok 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 Che cazzo è sto rumore No Merda Merda Sì Ok Ok Allora Questo parlava di una testa Poggiata da qualche parte Questo è un quadro Non è una testa Quella Ok Ok Ho capito cosa possiamo fare Da qui Ok 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 Il trofeo è caduto addosso a Benlin, uccidendolo come previsto. Devo tornare al santuario e parlare con Vicente Valtieri per ricevere la mia ricompensa. Ok. La sua guardia del corpo ha trovato il cadavere. Dirà a tutti che è stato un incidente e poi ci siamo stati noi che siamo più figli di puttana dei figli di puttana. Visto? Visto ragazzi? Questo è la confraternità oscura. Ti dà la possibilità di essere tutto quello che vuoi. Perfino uno stronzo. Ok, quindi da questa parte io ci avrò... Dov'è? Scusami. Io sto girando da sto lato. Ah, perché questo giustamente mi guida verso una porta per uscire da Bruma. Infatti... Bruttissime queste animazioni quando si sale al cavallo. Non si possono vedere. Hello a te. Ok, siamo in mondo aperto. Quindi... Su per giù dobbiamo andare da questa parte. Eccoci qua. Quindi acciaccialaput... Odio sta mappa. Comunque dai, sono divertentine ste... Ste missioni della confraternità. Se sono tutte così, carucce. C'hanno... C'hanno la loro atmosfera, insomma. Ok. Scusassero. Eh... Ho bisogno di... Non so se sia un bene far parte della confraternità oscura. Io comunque mi sono aggregato a chiunque, ai guerrieri, ma a chi... Cioè, quindi sono un po' una mignotta in questo... Sono di tutti proprio. L'incidente è stato organizzato a Banlin. Ora è morto. Ben fatto. È pienamente meritato la tua ricompensa e il bonus. Ti dono questo pugnale. È una lama incantata, conosciuta come spina di sofferenza. La sua punta è mortale, te l'assicuro. Sì, tu sei di grande valore per questo santuario. Infatti, penso che tu sia pronto per un avanzamento. Quindi ti nomino uccisore. Ben fatto. Ora vai, figlio di Sitis. Vai e riposa, ne hai bisogno. E lui se ne va. Vai e riposa, ne hai bisogno. Potrebbe essere pure un... Scala. Ok. Qua c'è uno shortcut che non possiamo aprire. Mi sono cagato sotto, ce l'avevo nella testa. Dormiamo un po'. Che bello dormire in Oblivion. Resetti tutto. Sei salito a livello 6. Allora, forza. Influisce sul peso trasportato, sulla quantità di energia. Influisce sulla tua capacità di resistere agli attacchi magici. di rigenerare magica. Ok. Infatti dormo poco io, eh. Dormo davvero poco. Quindi... Livello poco... poco spesso. Ma... Scusami. Perché mi... mi guidi? Esperienza nell'infiltrarsi. Dobbiamo essere sneaky sneaky? Bene. Il tuo obiettivo è un elfo oscuro. Ce l'ha quegli elfi. Il nome è Valendret. Pensa di essere al sicuro in prigione. Si sbaglia tremendamente. Un prigioniero è recentemente scappato di prigione usando una serie di tunnel segreti che collegano alle fogne della città imperiale. All'interno è una strada perfetta. Proprio fuori dalla prigione imperiale c'è una grata che conduce alle fogne. Di recente è stata ben chiusa ma fornirò una chiara. Dovrebbe essere abbastanza facile collocare Dreath nella sua piccola cellula. Scusatemi, nella sua piccola cella. Inoltre credo che tu conosca il modo. La sua lingua è acuta ma il suo corpo è flaccido e fragile. Si mostrerà una presa facile e piacevole. Riceverai un premio se si aspetti il contratto senza uccidere nessuna guardia della prigione. Ora va e che la madre notte sia con te. Oh ma noi abbiamo un incantesimo che ci rende invisibili. Possiamo usarlo una volta al giorno però è pure vero che abbiamo... Non si sa mai raga. Non si sa mai. Ok. Ok. E sono stato espulso. Ecco. Vabbè dai. Lo sospettavo. Lo sospettavo. Lo sospettavo. Ci ho provato ragazzi. Ho provato. Ok. Non ti rubo. Non ti rubo. Porca puttana è stato immediato. Ne è anche venuto da me a cazziarmi che ho fatto questo furto. Cioè semplicemente si è palesato il cartello. Oh te ne devi andare a fanculo. Va bene. Un po' meccanica come cosa. Avete assistito a un salto invece di un'interazione. Questo perché in Elden Ring si interagisce con la Y. E quindi... Benvenuti. I combattimenti saranno molto tristi adesso. Perché userò gli stessi tasti di Elden Ring sbagliando tutto. Adestro cani e persone. Preferisco cani. Insegno loro acrobatica avanzata. In piedi e muoversi ai cani insegno a mordere le persone. Ci sono persone e ci sono i cani. I cani sono leali e stupidi. Le persone sono intelligenti e vaganti. Vaganti? Ci sono dei buoni libri da Machna. Però non andarci quando è di cattivo umore. Vediamo di farcela amica questa. Le piacciono i cani. Cioè le piace che la si costringa a fare qualcosa? Non le piace proprio che io l'ammiri? Ehm... Ehm... Bum. Sbagliato. Ehm... Allora... Non le piacciono gli scherzi. Ehm... Va bene. Sì, così. Non le fa impazzire che io mi vanti. Ma le piace un botto che... Ehm... Mi vanto poco poco. Interessante. Miro. Bam. A manetta. E scherzo poco poco. Mi vanto. Ok. Abbiamo anche comprato gli ultimi punti. Quindi adesso questa signorina... No, è sempre incazzata. Non è che ce l'avesse con noi. Va semplicemente la faccia girata di coglioni. Vabbè. Annoying creature ce lo dice a tua mamma. Hai capito? Stronzo. Che è sto posto? Questi stanno in castigo. Sono dei penitenti? Porta di legno in Riverview. Chiedo se... Oh no, sono due mendicanti. E' bella sta cittadina. Mi piace. Hi! Sto gioco vinse il Goti. Mi pare di aver capito. Cioè fosse stato per me non avrebbe vinto niente. Però capisco il perché. Forse... Forse... Davvero a quel tempo... Oddio. Guardando i giochi GDR che ci sono in giro adesso io non credo che... Cioè... Si possa parlare di... Di tempo. È una volta. Cavalca. Cavalca. Cavallo nero. Oh, il mio cavallo dove cazzo sta? Il mio cavallo... Cavallo nero, cavallo nero. Quale cazzo è il mio? Non si sa. Scusatemi ma sulla mappa viene segnalato per caso il mio cavallo? Davvero? Cioè mi tocca salvare per vedere se mi arrestano. Va bene, salviamo. Quindi questo è il mio? Ok. Visto che il tragitto è breve ce lo facciamo proprio a cavallo. Ci godiamo questa nostra cavalcatura. L'abbiamo comprata. Quello che tutti vanno dicendo è vero. Kvatch è persa. Dedra l'hanno invasa. La guardia cittadina non ha potuto fare niente. Si che Kvatch è persa lo so. In parte è pure colpa mia che non ho saputo dare una mano però. No. 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 vuole st'altro? I Grimaldelli te li frego volentieri, l'arco salcazzi lo butto che non mi serve a nulla. Cavallo? Calmi, non dobbiamo sbagli a cavallo e qua sennò incidente diplomatico al volo. Ok, ho imbracciato il coltello della... No, che cazzo succede? Non voglio! Mi sono buggato nel cavallo di Dio! Mi sono buggato! Mi sono buggato nel cavallo di Dio! Ma quindi questo non è il mio? No, non sto cercando di comprare un cavallo Voglio sapere dove cazzo è il mio di cavallo Ma perché devo comprare il cavallo? Ma il mio cavallo dove cazzo sta? Perché è rosso il... cioè il simbolo è rosso quindi io dove cazzo devo prendere questo cavallo? Ho perso il cavallo per sempre raga Cioè sulla mappa non c'è nulla Fogne della prigione imperiale Facciamoci sta missione poi indaghiamo sul cavallo perché... Facciamoci sta missione per la prima volta di Dio Porca miseria ragazzi No sto rullando col tasto sbagliato qua non si rollo Porca troia che combattimento Solo il grimaldello c'avevi eh? Piatto ricco mi ci ficco Tacci tua Pozione di guarigione ce ne abbiamo due Però avrei preferito Ok non so questo che cosa sia No non è il posto che devo raggiungere io È un dungeon Che sarebbe il caso anche di Di visitare prima o poi Visto che dobbiamo camminare è inutile che sprechiamo una pozione ricostituente Ci possiamo curare mentre camminiamo e mentre camminiamo si può ricaricare la nostra barra del mana quindi sti cazzi Andiamo proprio lisci lisci Abbiamo ingergiato un combattimento ma è un combattimento del cazzo Certo che c'è proprio c'è proprio tutto qui eh Granchi goblin robe Possiamo nuotare noi si Certo che si Io non so se il nuoto poi possa essere in qualche modo migliorato o peggiorato Opla Dalla attrezzatura che abbiamo è magari troppo pesante Previsto per l'esecuzione Sono entrato nelle fogne sotto la prigione imperiale Ora devo avanzare lungo le fogne fino alla prigione stessa e uccidere Valendrette Non si vede un cazzo raga Ma proprio un cazzo si vede qui Io cerco di illuminare meglio che posso questa roba Ok credo che la porta sia questa Non era la porta Ok Perfetto Pozioni, pozioni, pozioni Era un po' che non ne trovavo Oro, tocco bruciante Ottimo Ok Da qui Passiamo dall'altro lato E vediamo se c'è Eh, vattene la pesca dove cazzo sta Posso attivare sta roba? Eh, effettivamente non so cosa ho attivato Ho attivato una roba ma L'ho attivata con la fiducia di chi Sta andando un po' a cazzo di cane Oh Tosto, eh Ah, me lo so perso Sì Ok Siamo arrivati Ho finito la torcia? Questo è un problema grave ragazzi È un problema gravissimo Un problema gravissimo Pozione cavalcamari Probabilmente ho abbassato il livello dell'acqua Bilancia Perché aveva una bilancia addosso quel pesce? Eh ragazzi Qui abbiamo un problema Perché La torcia La torcia La torcia Abbiamo un sacco di roba Eh Dai Mai Ok La torcia di prima si era semplicemente consumata Madonna raga Ma è lungo e contorto Considerate che io c'ho un tot di Grimaldelli Oddio Ok Io spero di Di farcela Nooo Nooo Ok 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 Ah Io non devo uccidere le guardie Ale No raga ormai mi hanno preso Cioè mi romperanno i coglioni per tutta la vita Va bene Nooo Non riuscirò mai a togliermi dai coglioni Ma poi sono fortissimi Non so nemmeno dove cazzo sono adesso Nooo No vabbè che palle Dovevo salvare Dovevo salvare Ok Ok me la gioco in rapidità ragazzi Me la gioco in rapidità Questo l'avevo già aperto Qua non l'avevo rubato Possibile Ho delle cose rubate Addosso Che siano quelle che mi stanno Facendo Diventare nemico delle guardie Senza dubbio Perché questi Io mi scordo che questi qui hanno i superpoteri Non so guardie normali Sono guardie Sono guardie Orribilmente Provviste di poteri esp Ok Ci metterò 50 anni Ci metterò 50 anni Allora devo ricordarmi che per le missioni della confraternita oscura Dovrei andare prima a comprarmi Dovrei andare prima a comprarmi le cazzo di Attrezzature da Da scasso Perché È importante scassinare Non so che cavolo sia questo Ma fa veramente schifo Ok Carne di ratto sicuramente non ci serve Allora Questo che dice Uscita a Sancta Santorum Scusami Dove ci troviamo? Eh no È giusto È giusto Ah Sì Uno Sì A posto Salviamo Salviamo Ok mi faccio uccidere Non è un problema Non è un problema Non è assolutamente un problema Vabbè Non ce la possiamo cavare così facilmente Dobbiamo attivare l'abilità di Camminare Indisturbati Invisibili È molto semplice in realtà Però Volevo vedere se si potesse fare pure senso Eh That's exactly what I'm saying But will the captain listen? No 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 Non mi ricordo Era ombra lunare Va bene La ricordo Scelta rapida La mettiamo qua Allora Salviamo già con questa impostazione delle abilità Così non dobbiamo rifare questa cosa cento volte Nel caso fallissimo Ok C'è un tot di tempo eh Non è che dura in eterno sta cosa Cazzo Eh Merda ragazzi Merda ragazzi E mo Ah vediamo Allora io devo andare qui Ma è un posto di merda E' un posto veramente di merda No 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 Gesù no Come faccio? Come cavolo si fa ad arrivare da questo tizio? Come cavolo si fa ad arrivare da questo tizio? Ok ok Così 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 Sono passato Che fortuna ma Sei tornato You lucky strumpet But you came back Come on Devi aiutarmi Fate uscire il vecchio Valen da questa cella Hai avuto la tua libertà Ora dammi la mia Cosa dici? Avanti amico mio La madre notte Ti saluta Ok Ok Come cazzo faccio a non uccidere le guardie? Yeah Yeah Well I guess you can't blame Captain Montrose too much This is his big career move after all Got to impress that lot upstairs Yeah True enough Oh well I best be getting back to my watch Hey Don't forget We're meeting for drinks later at the bloated float Oh I'll be there How could I miss a chance to see you cower before that big orc bouncer? Ha 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 Ok questo è un No raga è veramente un bordello È un bordello nero Però da questa stanza si accede Ok Ok Eh Devo fare un po' di tentativi Da questa stanza si accede più facilmente Yeah Well I guess you can't blame Captain Montrose too much This is his big career move after all Got to impress that lot upstairs Da qui Poi si va subito a sinistra Ok Ecco Devo entrare in questa porta C'è un cazzo da fare Devo entrare in questa porta Devo muovermi nell'ombra? Che sia fatto apposta così In sto posto Che sia appositamente buio come la merda? Ok Ok proviamo Wow Raga ma Splinter Cell chi? È una vera e propria missione stealth ragazzi Per forza di qua Che poi magari non ce ne sono nemmeno tante di ste guardi in giro Poi devo stare al buio Poi devo stare al buio Di qua Sì si 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 è la strada che ho fatto prima Si si è la strada che ho fatto prima Eh ci ho provato ragazzi ci ho provato mi son nascosto e... eccomi qua. Allora salviamo pure questa perché non voglio far cagate, è importante che salviamo quando una cosa sta andando bene. Eccoci qua. La mia tempo è almost up, e non c'è nulla che tu puoi fare su questo. Sì, beh, una volta, sette anni, otto anni, abbiamo avuto un lungo, tu e io e io. Abbiamo sempre pensato che avessero un giorno. Eleven, eleven anni in questo rot infestato, ma io stiamo fuori e tu sarai ancora qui! Oh, sì? Sì, dove andresti, eh? Che farei? Tu non puoi survivre là, Dreath, sei un animale. Tu appena in questo caglio. Mi ricordo di questo quando sto lievo sulle piazze di Somerset, con tua viva, tu imperiale... Sentilo. E tu sarai ricchi, anche. Oh, e tu diventerai un re. E tu sai cosa credo, Dreath? Penso che tu sarai tornato. Tu loro sempre vengono tornati. Tu lo vedrai, tu imperiale dog. When I get out of here, all of Tamriel will know my name. Vaelin Dreath. Vaelin! Watch out! You terrorize the might of the imperial legion! Ok, 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 calma. Oh, sto dando una mano a questo, perché mi pare che lo stiano trattando in maniera indegna e ingiusta. Però è una mia idea. E mi fa morire. Quando fa così, mi fa morire. Devo capire che cazzo fare. Ho fatto bene a salvare qui, nel senso che posso riprovare. Allora, come and... Allora... ... Allora lui si gira e se ne va Vediamo se nei miei incantesimi c'è qualcosa che può tornare utile Lingua di bestia Amalia Tocco calmante, calma Ma su cosa potrei usare, calma? Fortifica Guscio di geno Che fa questo? No, fa un cazzo No, non ho nulla Ok, io posso chiudermi qua dentro Ok, ok Quando lui finirà di parlare io sarò chiuso qua dentro E lui se ne andrà e io potrò parlare con la mia vittima Allora, io potrei vedere, impirio dog Quando mi fuori da qui, tutti di Tamria saprò il mio nome Valindrath Valindrath Allora, allora I'm tempted to let you out right now if you just shut up Allora, allora Bastardo di merda Dove cazzo sta? Ma guarda che merda Ok, ok, via Madonna raga, è stato un parto Io credo di dover scappare dalla prigione Aprendo quella porta C'è una porta che prima era bloccata Però io ho preso le chiavi Quindi sono sicuro di poterci passare Non so come mi sto ricordando la strada di sto posto Perché non ha senso per me Non ha veramente senso Eppure mi sto ricordando E' stata lunga sta missione raga Sì E quindi uscimmo a rivedere le stelle Sera Sera Beh ragazzi Siamo riusciti a fare una grande impresa E ci vediamo al prossimo gameplay Entro un'ora Perfetti Grazie 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 Grazie